Ciao, sono la dottoressa Elena e oggi ti parlo delle infezioni da clostridium difficile. Questo tipo di batterio è un batterio piuttosto particolare. Le infezioni di questo batterio si prendono soprattutto in ambienti ambulatoriali e in ospedali. Come fai a sapere se ce l'hai? Ovviamente devi chiedere al medico perché se no ti dicono che è una diarrea batterica e tu non puoi sapere da cosa è originata. Il problema di questo batterio è che anche utilizzando degli antibiotici molto frequentemente non riesce ad essere eradicato completamente. Questa situazione provoca delle recidive. Sono stati isolati però dai ceppi batterici, il Saccharomyces baluardii in particolare in associazione con altri, che sono in grado di ridurre le recidive se somministrati insieme all'antibiotico. Quindi nel caso di un'infezione, cioè se hai contratto un'infezione all'ospedale, quindi probabilmente sarà dovuta al clostridium difficile e hai delle ricadute, ti consiglio di utilizzare questi fermenti lattici. Enterococcus fecium, Lactobacillus acidophilus e Saccharomyces baluardii e in seconda battuta puoi utilizzare Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum e Bifidobacterium breve. Lactobacillus